Un fine settimana all'insegna del reciclo, reuso e partecipazione. Sabato 9 e domenica 10 marzo torna ad Arezzo il mercatino delle Pulci al centro affari di via Spallanzani. Si tratta del più grande evento sull'usato dei privati del centro Italia. Non una fiera vintage o dell'antiquariato, ma una manifestazione festosa sull'usato che promuove condivisione e integrazione improntata al consumo consapevole e alla sostenibilità. 600 i banchi presenti, distribuiti secondo due macrosettori. Quello rosa con quattro padiglioni sull'usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali ed usate con un limite di 50 euro a pezzo. C'è poi il settore blu con due padiglioni su vintage, antiquariato, collezionismo, handmade e di obisti, di cui uno nuovo, quello rarity, con l'usato passato, selezionato e più ricercato di parte iteiva e professionisti. Come sempre poi molti gli eventi collaterali e le collaborazioni. Domenica il mercatino sarà aperto tutto il giorno dalle 9 alle 19, mentre sabato solo il pomeriggio dalle 15 alle 19, in versione de ballage, disimballaggio e montaggio, gli espositori potrebbero dunque non essere tutti presenti. Grazie.